Chi, mercoledì scorso entrando e sparando all'impazzata in una redazione di un giornale satirico, di un simbolo della libertà di informazione e di espressione, ha ucciso? Chi ha ucciso delle forze dell'ordine, colpevoli soltanto di portare una divisa? Chi ha ucciso in un negozio in cui si vendeva? Si vendono prodotti gastronomici per cittadini, fratelli di religione ebraica, ebrea. Non lo ha fatto semplicemente per compiere un atto di terrorismo. Non lo ha fatto semplicemente per realizzare un attentato. L'ha fatto per provare a mettere in discussione l'identità stessa dell'Europa. L'identità stessa del nostro modo di concepire la vita. E la nostra parola identità è una delle parole più belle che dobbiamo difendere. Preservandola però innanzitutto dall'atteggiamento sguaiato, cialtrone e maldestro di chi, anche a casa nostra, pensa che la parola identità sia il contrario dell'integrazione. Il contrario della parola integrazione è disintegrazione. Il contrario della parola identità è anonimato. E noi abbiamo bisogno di avere una nostra identità, esattamente perché non vogliamo essere cittadini senza nomi. E noi abbiamo bisogno di riaffermare le ragioni dell'integrazione contro chi propone un modello di disintegrazione.